All'incrocio tra via Boito e via Pellestrina, la volante della questura è arrivata pochi minuti dopo le 21 a chiamarla, i residenti. Alla vista dei lampeggianti, una coppia si è allontanata. Solo un terzo passante è rimasto sul posto lanciando delle bottiglie in vendo contro gli agenti, che per riportare la tranquillità hanno anche dovuto usare lo spray e il peperoncino. Il giovane aveva con sé 7,5 grammi di eroina. Agli agenti è raccontato di essere minorenne, in realtà aveva una montagna di alias alle spalle e l'espediente non è bastato ad evitargli i guai.